Aang, devi padroneggiare lo stato dell'Avatar. Può essere l'arma definitiva. O può salvarti la vita. Tutti contano su di me. Come riesco a salvare il mondo, se non so cosa sto facendo? Ma immagina cosa accadrebbe se neanche ci provassi. Aang! Che cos'è? Pensavo che foste valorose. Arrivano! Non so questo dove porterà. Ma ho una certezza. Questo è solo l'inizio. Oppa! Yip yip! Allora! Che cos'è? Ahahah! Allora! Oh oh oh! Grazie a tutti.